lo sapevate che un bacio può provocare reazioni allergiche se chi lo dà ha appena mangiato alimenti che lo scatenano come per esempio le arachidi i cani sono daltonici non distinguono il rosso dal verde i cani guida per ciechi riconoscono i segnali dei semafori della posizione della luce il simbolo della shell è una conchiglia perché in origine nel 1800 era una ditta di import export di conchiglie il primo logo nel 1901 era simile a una vongola poi è stato sostituito con un pettine il simbolo attuale l'uso della cravatta fu diffuso in europa 300 anni fa dai cavalieri croati assoldati dal re di francia luigi 19 in corrispondenza dello stretto di parma il livello dell'oceano pacifico e 20 centimetri più alto di quello dell'oceano atlantico se lo stretto di panama fosse costantemente aperto dunque ci sarebbe un flusso d'acqua da ovest verso est